Grazie a tutti e prima di dare la parola ai nostri team per vedere finalmente il loro trailer io vorrei concludere con una parola, collaborazione, perché tutto questo non sarebbe possibile senza prima di tutto la straordinaria collaborazione che dura dal 2010 fra il Comune di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, Arter, una collaborazione di intenti nel sostenere il settore culturale creativo della nostra Regione, da lì sono nati Incredible, da lì è nata Bologna Game Farm, senza questa collaborazione stretta tutto questo non sarebbe possibile e poi permettetemi di dirlo dopo tre anni di lavoro nel settore dei videogiochi la collaborazione, la condivisione, mi riaggancio a quello che ha detto Amedeo, in questo settore sono straordinarie, io lo vedo nella condivisione che c'è fra i team dei successi, delle risorse, di qualsiasi cosa ma anche nella collaborazione fortissima che c'è tra i mentor che vengono qui e ci danno il loro tempo, giornate intere oppure lavorano anche da remoto e quando gli abbiamo chiesto ma voi perché lo fate la risposta è stata perché voi ci credete e se ci credete voi ci crediamo anche noi, quindi grazie